Poche ore fa è stato assassinato a Pesaro un esponente, un ex esponente della criminalità organizzato, un certo Bruzzese calabrese, il fratello di un pentito d'Indrangheta. A Pesaro con 30 colpi di fucile è stato dato un colpo fortissimo, non solo alla vittima, è stato dato un colpo fortissimo allo Stato, è stato dato un colpo fortissimo alla credibilità dello Stato. Non sono tra coloro che ritiene Salvini responsabile di tutto quello che avvenga in questo Paese, come spesso strumentalmente si fa, e però Salvini è il ministro degli interni. Certo l'atteggiamento del mangianutella il giorno dopo questo omicidio, dove appunto è stata colpita la credibilità dello Stato, non è stato un atteggiamento consono al ruolo che ricopre. Il compito del ministero diretto da Salvini era quello di tutelare questo familiare del pentito. Perché? Perché ne va di mezzo la credibilità dell'istituto della protezione dei pentiti. E cioè la possibilità che lo Stato nel momento in cui prenda in consegna uno che collabora per appunto fare arrestare, dare colpi alla criminalità organizzata, lo Stato deve essere invulnerabile e invece in questa vicenda si è aperta una crepa di vulnerabilità straordinaria. Una organizzazione criminale è arrivato a colpire una persona sotto la tutela dello Stato, ha beffato lo Stato e questa rappresenta anche simbolicamente un monito per coloro che stanno collaborando o che vorrebbero collaborare. Uno Stato non credibile, uno Stato che non è in grado di tutelare gli uomini che si mettono a disposizione, che si consegnano nelle mani, nelle maglie dello Stato è uno Stato che diventa uno Stato barzelletta. Allora, ministro, se lei lo condisce anche con una fetta biscottata ricoperta da Nutella, il dado è tratto. Alla non credibilità si aggiunge la farsa. E un ministro degli interni non deve fare in modo che lo Stato venga dipinto e rappresentato in maniera farsesca. La prossima volta la Nutella se la mangi, soprattutto all'indomani di questi fatti così drammatici e preoccupanti, se la mangi da solo nella sua cucina, con i suoi familiari e non c'è bisogno che la posti su Facebook. Lei su Facebook deve invece postare quelle azioni che servono a dare dignità e credibilità allo Stato di diritto.